L'ulteriore garanzia mi è poi data dal fatto che ho una serigrafia diretta sul master, non ho nessun film applicato, quindi per forza di cose, se il supporto costituito dal materiale del master si è leggermente modificato per effetto della variazione di temperatura, la serigrafia si è comportata nello stesso identico modo. Capite bene che in questo modo io ho la possibilità ogni volta che calibro il mio scanner e che quindi vado a definire i suoi parametri di scansione, vado ad insegnargli come si scansiona, vado ad utilizzare un oggetto di riferimento che è perfettamente descritto dal file XML che viene fornito con questo oggetto di riferimento. Ed ogni possibile imperfezione legata al fatto che viene calibrato a temperature diverse, viene compensata dal software che prima di tutto è abbastanza intelligente per farlo e seconda cosa lo fa assumendo delle ipotesi che poi sono effettivamente rispettate. Quella fondamentale è che tutta la superficie del master sia alla temperatura uniforme che è quella dell'ambiente. Questo è fondamentale per ottenere una calibrazione perfetta. Lo ripeto un'altra volta perché è veramente un concetto importantissimo. Calibrazione perfetta vuol dire scansione perfetta. Perché la calibrazione è la fase durante la quale si vanno a definire i parametri di scansione dello scanner. Calibrare bene lo scanner vuol dire che poi questo nostro scanner ci darà una scansione accurata. Ovvero, la nuvola di punti che andremo ad acquisire sarà una descrizione estremamente vicina alla realtà. Andremo ad acquisire effettivamente il modello che è in acquisizione in quel momento. Grazie. Grazie.